Io ovviamente voglio realizzare l'atteggiamento possibile di agendo la Commissione che si è impegnata a cercare per dire quali sono le problematiche rispetto a quelle precedenti, inizio, 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 inizio. E bisogna anche prendere atto dello sconso o coniuto dall'affensurato anti-arce e qui dalla affensore e dal dirigente, che rispetto a un problema terzo, con il chiuso della determinazione e della regolarizzazione di un'entrata che sovvizzona alla vita dei cittadini, anche se dire, non la capisco, non la capisco, non la capisco, non la capisco, adesso la parola storia, non la appunto, faccio un'altra cosa, perché non la capisco, 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 ma per farlo un buon approssimativo da parte di chi invece ha il potere, così come se ha fatto un'unica storia, da parte di chi ha il potere, rispetto a ciò che non si tratta di scelto, di lavorarci su, di studiarla, di commettere anche il risultato, perché no, di contiene anche delle lunghe tassette, perché no, però che cose, gli tassette, che ci consentono di necessitare il problema, e allora sì, quindi, secondo passaggio in condizione di l'ancio, sulla parte di un lato storico, cercate di migliorare, cercate di migliorare il composto, cercate di migliorare la partita del risultato e cercare di essere loro, per l'esercizio 2015, di avviare il sistema di agevolazione, che tende a favorire, per effettivamente, fino a soli, ma immaginare che ciò che non cambiate, o non continuate, in un'unica risciolata, per cui aiuto, e la tuta solitare, si fa davvero su un'azione di tutti, ma che è un'automistica, 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 e le regno di approvazione del viaggio, e di affrontare il conflitto, anche per il fritto, con tutti ieri, con tutte le nostre situazioni, alle abbiamo accopato, e abbiamo cercato di raggiungere il nostro paese. Grazie a tutti, grazie a tutti.